Ciao amici runner e benvenuti in questo video dove vi racconto l'allenamento di preparazione maratona di martedì 31 gennaio 2023, ripetute sui 1000 metri, corso in pista alle 6.30 del mattino. Un allenamento condizionato dalle gambe stanche, dal lavoro di qualità della domenica precedente e anche dalla pista ghiacciata, oltre ovviamente al freddo e al buio delle 6.30 di mattina. Come ad iniziare, come sempre vi ricordo di mettere mi piace, iscrivervi al canale e grazie a tutti per il supporto. Let's go! Allenamento di martedì 31 gennaio così strutturato. Una prima parte di riscaldamento, 3 km di corsa lenta fatti sempre in pista a 4.34 e poi 8 per 1000 metri con recupero un minuto correndo e percorrendo circa 200 metri nel recupero. Il ritmo è un ritmo di corsa veloce per queste ripetute, quindi per me tra i 3.35 e i 3.40 al chilometro. Un allenamento come abbiamo già visto anche nelle scorse settimane che va a lavorare sulla capacità di carico e di resistere a certe velocità più a lungo possibile. Da qui quindi il recupero di solo un minuto perché questo non è un allenamento che va a cercare il massimale di spingere oltre la soglia per arrivare alle velocità massime delle ripetute, ma è più un allenamento per aumentare la capacità di sostenere questi ritmi elevati. Come è andato l'allenamento? L'allenamento è andato bene, ho cercato un approccio conservativo in questo caso per due motivi. Uno perché arrivavo ancora stanco dal lavoro di qualità della domenica, dai 30 km di cui la metà fatti a corsa media e poi il secondo motivo perché comunque li ho fatti alle 6.30 del mattino. Nonostante io sia abituato a correre al mattino presto, sicuramente fare le ripetute al mattino presto col buio, col freddo, con la pista un po' ghiacciata non sono le condizioni ottimali. Non vado a cercare la prestazione ma vado a cercare il controllo, il fatto di avere tutte le sensazioni positive e non cercare di spingere il più possibile per il tempo per poi rischiare gli infortuni. Andiamo a vedere nei dettagli. Come ho detto 8 per 1000, il totale è stato 3.53 ma andiamo subito a vedere i parziali, come li ho distribuiti. Dopo il primo a 3.42 siamo passati a 3.39, 3.40, 39, 38, 39, 41 e 38. Quindi molto molto costante anche da un punto di vista di battiti. Se andiamo a vedere cosa ci dice il Garmin, sono cresciuti ma poi si sono, vedete come si sono stabilizzati bene in un certo intorno con il massimo a 172 circa battiti. Questo ti dice che gli ho corsi molto controllo rispetto a quelli precedenti che facevo magari a 3.35, 3.33. Qui andando a 3.40 è ovvio che sento la fatica perché è una fatica fatta alle 6.30 del mattino, quindi condizionata da quelle condizioni sia meteorologiche ma anche fisiche. Però a livello di battito si può notare come rimanga costante per quasi tutte le ripetute e questo è un sintomo che il ritmo che sto svolgendo, il ritmo a cui sto correndo in questo momento è un ritmo corretto per poter continuare a fare queste ripetute. Quindi in sostanza un allenamento buono, date le condizioni esterne, date le condizioni anche interne della stanchezza e che ci mette sulla buona strada per fare una settimana interessante. Grazie a tutti e buone corse!